Soltanto due cose mi hanno cambiato la vita, anzi, me l'hanno fatta capire, dunque alla fine vivere. La prima è stata il greco antico che ho incontrato da ragazza e la seconda è stata la corsa, il running, che ho incontrato del tutto per caso, inaspettatamente, l'estate di tre anni fa. Della corsa, ma anche dello sport in generale, non sapevo nulla, avevo sempre pensato che fosse molto più importante allenare il cervello, a stiché i muscoli delle gambe. Non mi sarei mai aspettata di scrivere questo libro se me l'avessero detto, non so, tre anni fa mi sarei forse messa a ridere. In realtà l'arte ginnastica è quindi il resoconto di quella sconcertante avventura che è stata per me di iniziare a correre e allo stesso tempo è una riflessione sulla nostra contemporaneità, sulla nostra paura di invecchiare, e il dono di morire, su ciò che ci spinge ogni mattina, noi runner di tutto il mondo, a trasformare i marciapiedi di nostra società in palestra a cielo aperto. Perché tutto questo bisogno di resistenza, sempre di più in realtà da che cosa stiamo scappando, mi chiedo? E' una riflessione sulla femminità, ma anche sullo stato del nostro pianeta, sul nostro modo di vedere il tempo e con l'estato di Shlò, così si chiama in inglese, con il benessere, con il tempo fra dal tempo di quando si corre, ma che gli antichi chiamavano Kairossi. Scrivendo questo libro mi sono imbattuta nel primo manuale di sport della storia, che è quello di Filosofo, si chiamava De Arte Cinnastica, ed era una riflessione sullo sport. Io che mi aspettavo un manuale di allenamento per imparare a correre, come correvano i greci, mi sono in realtà imbattuta in una riflessione che parte dal concetto di sport come Sofia, ovvero come sucienza, e quindi una riflessione più larga di quanto muovere le gambe sia importante per annullare molto il cervello. Mi sono detto che valeva la pena di tentare, valeva la pena di rifare quei 41,8 km percorsi dal primo runner della storia di Filippi, il primo maratoneta di sempre, per provare a capire, perché una cosa soltanto è certa, se è vero che dal 2500 a.C., l'età di Pericle e di Platone, tutto è cambiato, dalla tecnologia alla religione, persino il clima, siamo stati capaci di ordinare. Se tutto è cambiato, però il corpo è rimasto lo stesso, e quindi i miei muscoli, il mio cuore, i miei polmoni sono gli stessi degli antichi maratoneti greci, e quindi volevo provare e poter dire anch'io, nei miei cani, abbiamo lì tutto.